E' il tenente colonnello Valerio Bovenga, il nuovo comandante del gruppo Guardia di Finanza di Taranto. L'ufficiale appena giunto, ha 47 anni, laureato in giurisprudenza e scienza della sicurezza economico-finanziaria. Ha svolto in precedenza incarichi di comando presso la terza compagnia del nucleo di polizia tributaria di Roma, la compagnia pronto impiego di Brindisi ed ancora i gruppi di investigazione sulla criminalità organizzata di Napoli e di Bari. E' negli ultimi tre anni ha guidato il gruppo di Sibari, con sede nella provincia di Cosenza. Il tenente colonnello Bovenga sostituisce il tenente colonnello Giuseppe Maniglio, che dopo tre anni ha lasciato la città dei due mari, proprio per raggiungere il gruppo di Sibari in qualità di comandante. Il colonnello Massimo Dell'Anna, comandante provinciale, dopo aver ringraziato il tenente colonnello Maniglio per la proficua attività svolta nel territorio ionico, testimoniata dai risultati di servizio conseguiti in tutti i settori operativi di competenza del corpo, ha dato così il benvenuto al tenente colonnello Valerio Bovenga, rivolgendo gli migliori auspici di un buon lavoro, nell'interesse sempre della provincia ionica e della Guardia di Finanza. Il passaggio di consegne è avvenuto alla caserma Lorenzo Greco di Taranto. Grazie a tutti.